gentili telespettatori buona giornata altra figuraccia del capitano ma ha senso continuare a chiamarlo capitano uno che perde il 18 per cento in due anni un anno e mezzo forse no però vabbè insomma chiamatelo un po come volete chiamatelo capitano leader del carroccio grande capo come volete però ha fatto un'altra figuraccia caro senatore non ti mettere contro giorgia meloni non è cosa giorgia meloni sa quello che fa non fa niente a caso quello che fa è tutto ragionato studiato lei studia i documenti prima di parlare ci pensa non si contraddice non si non non disattende il suo elettorato pertanto io le consiglierei le consiglierei salvini lasciar perdere la meloni perché se vuoi attaccarla meloni alla fine ci perdi sempre perché diciamo che tra le due persone c'è una bella differenza che cosa succede il leader del carroccio assiste al discorso di del nostro mattarella che lui ha voluto che lui è corso con la sinistra a fare leggere quello che la sinistra sette anni prima aveva eletto come suo capo dello stato imparziale ma quale imparziale è un uomo di centro-sinistra che ovviamente ha fatto gli interessi della sinistra diciamocelo chiaro dai non ci ha fatto votare ha impedito il governo quando la meloni ha avuto bisogno per la rai e il coppassir lui non ha risposto quando salvini ha avuto bisogno per palamara le intercettazioni lui non ha risposto insomma alla faccia del 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 della persona imparziale ma quale non ci non esistono persone imparziali da quelle sono leggende metropolitane allora il salvini matteo leader della lega assiste al giuramento di mattarella e dice avete visto applaudiva anche chi ha chi mi ha criticato con chi ce l'aveva ce l'aveva con fratelli d'italia giorgia meloni dice così applausi convinti e condivisibili da parte di tutto il parlamento al bellissimo discorso del rieletto presidente mattarella anch'io seppur bloccato in cloud in casa ho applaudito convinto ve lo immagino ve lo immaginate salvini davanti al televisore che fa bravo bravo ve lo immaginate no zitti 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 c'è mattarella bravo bravo si il mio presidente mattarella mattare no con gli spaghetti no vestaglione di flanella spaghetti no mattarella ecco me lo vedo proprio salvini che esulta e inneggia il capo dello stato eletto dalla sinistra che lo ha fregato e lui si è fatto fregare però insomma l'elettorato ha capito meno 2,2 per cento di consensi in sette giorni credo che un record quasi credo assoluto in italia perdere un partito che perde il 2,2 per cento in una settimana non è da tutti e non è per tutti e allora lui dice ah guarda lì quelli di fratelli d'italia hanno applaudito e mi criticavano per mattarella bene a quel punto giorgia meloni ha risposto immediatamente e voi direte ma cosa può aver risposto la meloni cavolo hanno applaudito mattarella allora ragione salvini cavolo è capitano questa volta ha fatto gol no questa volta il capitano ha fatto gol i deputati della meloni hanno applaudito il sergio ha fatto gol siete sicuri che ha fatto gol matteo salvini siete sicuri che non ha fatto autogol ancora per l'ennesima volta ascoltate la risposta di giorgia meloni e poi valutate voi anche senza la mia opinione subito giorgia meloni che ovviamente come vi dicevo è inutile cercare di mettere in difficoltà questa donna perché è difficilissimo difficilissimo dice subito su facebook chiarisco due cose a chi a quel signore la no chiarisco subito due cose dice presto detto punto 1 noi rispettiamo le istituzioni sempre una cosa è non sostenere la persona altra non riconoscere il ruolo che ricopre grazie ad altri punto 2 ci sono dei passaggi del discorso di mattarella che abbiamo condiviso quello nel quale ha citato lorenzo parelli studente 18 anni che sul lavoro è quello contro gli scafisti quello contro la violenza sulle donne quello in cui attacca le correnti della magistratura quello in cui spiega draghi che siamo ancora una repubblica parlamentare tutte cose e la sua conclusione che fratelli italia dice da tempo per questo abbiamo applaudito anche questi passaggi ciò non toglie a differenza degli altri partiti tra cui anche lega e forza italia noi non lo avremmo mai votato allora avete capito quello che dice la meloni non bisogna andare coi paraocchi e dire quella persona è tutta sbagliata quella persona è tutta giusta ci sono anche delle sfaccettature ad esempio io posso criticare calenda su alcune cose però su altre cose posso dire c'ha ragione fa bene io posso dire che su renzi su alcune cose è inascoltabile su altre ragione io ve l'ho sempre detto nei miei video quando un politico ha ragione io lo dico ha ragione io non vado avanti con i muri ideologici non è corretto dire come diceva uno del pd salvini ha sempre torto non può dire cose giuste salvini non ha mai ragione ecco dire salvini non ha mai ragione una stupidaggine è una stupidaggine poiché nell'ultimo anno e mezzo abbia fatto solo cose sbagliate un altro corso però non possiamo dire che salvini fa solo cose sbagliate letta fa solo cose giuste la meloni fa solo cose giuste berlusconi fa solo cose sbagliate sarebbe un discorso stupido stupido la differenza è nei vari politici che c'è chi magari tende a fare sempre cose sbagliate e chi tende a fare sempre cose giuste ma non vuol dire che uno faccia sempre al 100% le cose giuste o al 100% le cose sbagliate questo dice giorgia meloni noi sentiamo il discorso del presidente della repubblica che è sempre presidente della repubblica non l'abbiamo votato noi non l'avremmo mai eletto noi ma in quel discorso c'erano dei passaggi che andavano applauditi se noi non avessimo applaudito per cose di cui siamo convinti saremmo stati degli stupidi saremmo stati degli stupidi non lo ha detto ma questo è il senso pertanto caro salvini è un po superficialotto dire i fratelli italiani applaudivano mattarella e poi mi criticano è un po un discorso sul pelo dell'acqua bisogna approfondire caro senatore pensare a quello che si sta per dire perché sennò poi si fanno delle figuracce anche in questo caso giorgia meloni nesce come un gigante della politica e lei senatore nesce un po in maniera superficialotta quelli che commentano senza approfondire senza pensare a quello dice ma perché giorgia meloni ha applaudito quindi tu che non voti mattarella devi dire sempre che è negativo no no giorgia meloni ad esempio spesso critica di maio ma ci sono stati dei momenti che ha detto bravo di maio hai fatto bene mi complimento con te questa è intelligenza non solo politica ma della persona il saper riconoscere gli altri quando fanno delle cose giuste e il saper riconoscere quando fanno delle cose sbagliate quindi dire solo sbagliato e solo giusto è da stupidi arrivederci a tutti e grazie